test numero uno paracadute ci troviamo qui sulla spiaggia di scalea mori mantienilo eh che qui si fanno le cose mori no allontanalo su via fai la buona e che dio sia con noi penso di si ma un minuto a partire da quando non so oh 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 Tra poco sgancerà la bomba, l'approvvigionamento attraverso il paracadute, si spera in buono. Sgancio è riuscito. Dove è andato a finire? No, là. Lo sgancio è andato a termine. Dove è andato a termine. Dove è andato a termine. No, là. No, là.